Dalla sede della CGL di Lecco i sindacati lanciano le proposte per la ripartenza. I temi sono veramente tantissimi, con tantissime proposte. Partiamo da Salvatore Montesurro, segretario generale Will Dell'Ario. In primis voi chiedete una cosa in particolare, prorogare il blocco dei licenziamenti almeno fino al 31 ottobre. Il blocco dei licenziamenti che ricordiamolo verrà il primo luglio tolto. Certo, noi chiediamo con forza al Governo che ci sia ancora il blocco dei licenziamenti almeno fino al 31 ottobre di quest'anno. Questo è necessario perché in questo lascio di tempo ci permetterà di comprendere se la pandemia è definitivamente alle spalle o se invece c'è ancora una necessità da questo punto di vista di dare una risposta a questo problema. Cosa pensate che succederà dal primo luglio? Il primo luglio ci sono alcuni indicatori, quelli più recenti dal punto di vista del mercato del lavoro, come la cassa integrazione nel mese di aprile, che riguarda nello specifico i soggetti che sono in cassa integrazione ordinaria e straordinaria sulla provincia di Lecco e sono più di 2.500, che sono quelli ad alto rischio dal primo luglio di quest'anno che potrebbero essere licenziati, soggetti al licenziamento. Allora noi vogliamo evitare che vengano lasciati senza un sussidio economico e senza un posto di lavoro questi lavoratori. Quindi abbiamo la necessità e chiediamo con forza che il Governo almeno proroghi fino al 31 di ottobre il divieto dei licenziamenti. È importante perché non si può permettere che 2.500 famiglie oggi vivano con preoccupazione che cosa gli accadrà del proprio futuro dal primo luglio di quest'anno. Ecco questo è il tema centrale, grazie Salvatore Monteduro, ma altro tema importantissimo secondo i sindacati e anche secondo CISL sono le pensioni. Mirko Scacabarozzi, segretario generale CISL, Monza Brianza Lecco. Voi sulle pensioni chiedete cose ben precise? Sì, allora per quanto riguarda il tema pensioni la nostra proposta è molto chiara, non possiamo permetterci di avere una fornera incombente al primo di gennaio. Quindi la proposta sul 62 di gennaio grafica di almeno 41 come condizione, perché abbiamo visto che anche le proposte che erano nate in casa sindacale, per esempio quota 100, che avevamo sostenuto non come un privilegio ma come un'opportunità, hanno dato luogo per esempio a dei risparmi e quindi quello che è stato risparmiato dal sistema previdenziale chiediamo che venga rimesso in gioco. Un altro elemento essenziale è quello che noi ormai da decenni direi chiediamo, la distinzione tra previdenza e assistenza, perché giocando con i numeri è evidente che parliamo di un IMS sempre in debito, ma se noi facessimo le debite distinzioni ci troveremmo a un istituto nazionale della previdenza in grado di reggere il sistema pensionistico e di appianare le diverse curve che invece qualche presunto esperto vuol farci vedere. E quello che noi chiediamo in aggiunta è rafforzare il sistema della previdenza integrativa, quindi quello che oggi è possibile fare a sostegno, quindi con una gamba ulteriore, al sistema previdenziale pubblico. Ecco, tema di cui si discute spesso, grazie Mirko Scaccavarozzi, c'è anche Diego Riva, segretario generale CGL, ecco, in questi giorni si parla tanto anche di PNRR. Voi avete proposte anche in tal senso? Sì, noi abbiamo anche delle proposte in tal senso perché pensiamo che intanto arriveranno molte risorse di cui queste risorse le dovremmo anche restituire e quindi pensiamo che sia giusto che anche le organizzazioni sindacali si siedono ai tavoli per poter discutere e affrontare il futuro. Questa è un'occasione nella quale abbiamo delle opportunità, opportunità che però devono essere giocate e giocate bene. Dentro la questione del PNRR bisogna avere coerenza e coerenza vuol dire anche coerenza industriale, fare delle cose che vanno nella direzione coerente. Se è vero che entro il 2030 dobbiamo ridurre del 55% dell'emissione carbonica nell'aria, tu devi fare degli investimenti che vanno in quella direzione. Anche in ambito locale, dato che stia parlando di Lepeproviccio. Anche in ambito locale c'è necessità che questa coerenza venga messa in campo e quindi come chiediamo a livello nazionale la possibilità di essere coinvolti, chiediamo anche ai tavoli territoriali questa cosa. Perché poi bisognerà arrivare nel 2050 nella quale l'emissione di anidride carbonica nell'area deve essere pari a zero. Quindi è importante anche discutere, far sapere che noi vogliamo incontri, tavoli preventivi per decidere quali possono essere gli investimenti. Tornando ai capitoli più importanti che devono essere affrontati immediatamente perché la questione del PNRR lo si deve affrontare in un periodo un po' più lungo. Ma abbiamo un altro tema che dobbiamo affrontare immediatamente, è quella questione fiscale. La questione fiscale tu oggi devi affrontarla. Oggi perché penso che bisogna essere coerenti anche su questa cosa. Non solamente discussioni legate appunto alla questione legata all'ambiente o altri temi che sono funzionali a migliorare la situazione legata per quanto riguarda il rilancio del Paese, ma anche essere coerenti del fatto che bisogna mettere in campo un principio costituzionale. E cioè che se in questo Paese si guadagna in un certo modo, si deve pagare in funzione a quello che è, tra virgolette, quello che ognuno di noi, diciamo, recupera attraverso la sua potenzialità. Quindi molte cose. Si inizia con questa manifestazione a Torino, varie Firenze, ma è chiaro che questo è un inizio e non è assolutamente un fine fare solamente iniziativa. Dobbiamo aspettarci piazze anche in ambito più locale? No, per ora non ci sono queste cose, ma non è detto che in futuro, qualora mai non dovessero ascoltarci, le cose possono diventare anche, diciamo, articolate o regionali o territoriali. A oggi c'è la possibilità ancora di chiedere al governo di rivedere la sua posizione, cioè avere la possibilità di un confronto. Certo che nel momento in cui c'è il confronto potrebbe anche esserci che non è che ci si trova d'accordo. Noi non vogliamo avere sempre ragione, però è chiaro che in funzione delle risposte che ci verranno date avremo la possibilità di scegliere anche come stare in campo. Grazie Diego Riva. I temi sono veramente tantissimi. La carne al fuoco che i sindacati, perlomeno CGL e Cisleville, hanno messo è veramente tanta. Si comincia con queste tre piazze in ambito nazionale, quindi il 26 di giugno, Bari, Firenze e Torino. E poi chissà che queste richieste non si estendano anche ad un ambito più locale. Grazie per averci seguito.